One Take Season 3, siamo tornati, io sono Nate e questo è Geva e questa sera siamo qua con Jamie Tights Ciao ragazzi Come stai? Bene, bene Prima di tutto, notizia fresca Forza Roma Forza Roma finalmente Ce l'avete fatta a vincere un trofeo Meritato Alleluia 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 Allora bro, grazie mille per essere qua Ci facciamo una mezz'oretta di discussione Parliamo del disco Eclissi, appena uscito Complimenti tra l'altro, numero uno in Fimi Ti ringrazio Ragazzi andate a comprarlo, andate a streamarlo Abbiamo detto, primo classifica in Fimi Quindi diciamo che Jamie Tights, l'artista Meglio di così non poteva stare Ma quello che chiede, Davide in questo momento, come sta invece? Ma piuttosto bene Prima di rilasciare il disco ovviamente Prima di pubblicare Di metterlo out È normale Era un po' più paranoico, un po' più ansioso Tu sei uno che la vive ancora La prima era molto forte Ma sì Perché cerco comunque ogni volta Di fare una cosa diversa da quella prima Quindi poi non so in realtà Come viene presa dal pubblico Per fortuna, anche questa volta Cioè per fortuna In realtà è bello il disco Quindi è giusto così Però per fortuna hanno capito Quello che intendevo Ecco, perché magari certi si aspettano un'altra cosa Ci puoi rimanere male, capito? Sì, assolutamente Tu hai delle aspettative precise o...? No, speravo soltanto che venisse Che venisse interpretato nella maniera giusta Mi pare che dai responsi della gente Sia andato... Assolutamente Sia andato bene A noi fa sempre piacere avere artisti del tuo calibro Ma perché? Perché tu hai attraversato diverse sfere, no? Diverse ere Sì E comunque Fa sempre piacere vedere che lo zoccolo duro è rimasto Perché comunque il disco sta andando bene Noi quando abbiamo annunciato la data Comunque tutti i tuoi fan Hanno commentato in maniera super positiva Che non è scontato, no? No, mai Esatto E io volevo chiederti Il tuo rapporto con la fanbase In questi anni è cambiato in qualche modo O lo tieni sempre costante? Guarda, ti dico Ci sono stati dei periodi In cui era un po' difficile riuscire a relazionarsi Soprattutto dal vivo Per strada, intendo Che poi i concerti è sempre stata Una bella situazione Sì, io sono stato a due concerti Ai magazzini a Milano Cantano tutte le canzoni Sempre tutto Sì, sì No, no Il pubblico ai concerti è sempre stato top Tu dici un po' Quel incontrarti Quello di sempre chiederti Sì, è che ho dovuto fare un po' I conti con questa cosa, no? Di essere famoso Che non è mai facile Ok, ok Ma ho imparato, devo dire Me la vivo un po' meglio Sicuramente di qualche anno fa Quindi è tutto ok Poi c'è stato il periodo del covid Comunque che ti sei potuto concentrare Immagino non eri troppo in giro Eh sì, sì Magari lì sei Pro, un disco che è primo in classifica Eclissi Volevo chiederti La copertina Cosa rappresenta? Allora, quello scatto È uno scatto Io ho voluto fare tutte le foto sott'acqua Queste tutte le foto Che sono nella copertina Nel booklet dentro Sono tutte sott'acqua Sott'acqua perché Mi ha dato sempre A me almeno Da quel senso di Di silenzio Di pace Tra virgolette Di quiete Comunque anche di Tra virgolette Un po' Oscurità No? C'erano dei Dietro il nero Perché avevamo messo Delle robe nere Dietro di me Quindi quello Io sto sott'acqua Nelle foto E volevo che ci fosse Questa sensazione Un po' Destabilizzante No? Un po' perso Non so come dire Comunque io sto con gli occhi chiusi Sembra un po' che fluttuo E questo era il senso Comunque Ok Di lasciare un po' Questa sensazione Di Un po' Un alone di mistero Intorno Ma come mai? Perché si sposa molto bene Col console del disco Comunque è un disco d'amore Un disco Sì alla fine Un disco piuttosto deep Deep Esatto Quindi sì Diciamo che Poi non è che io Penso sempre La copertina Deve essere così Facciamola in base Poi al Al concetto del disco Comunque la copertina Ovviamente non è che deve essere Una cosa completamente opposta Ma è una roba estetica No? Visiva Quindi puoi scegliere Anche di fare Una roba che non c'entra niente Secondo me poi Tra le due cose Si sposava bene Io non pensavo Di tirare fuori Tutto l'art tour del disco Dalle foto sott'acqua Però poi invece Sono venute come speravo E così è stato Io quando mi ascolto i dischi Una cosa che mi piace tantissimo E sono molto fan Sono delle intro No? La cosa che voglio chiederti L'intro è L'hai scritta per ultima? No Quella è la prima traccia Che è stata scritta Nel disco Io trovo che comunque Riassume bene Tutto quello che sta nel disco Per quello che ti chiedo Magari se l'avevi scritta alla fine No no Anzi quella ha dato l'input Ti dico Ok È stata quella Doveva stare sul mixtape Su QVC9 Ma poi l'ho tolta Perché secondo me Era Era più da disco Che da mixtape E quindi poi da lì Diciamo che ha dato un po' Il via alla cosa E io mi sono mantenuto Un po' Su quel mood là Ok Tre citracce Nell'intro dici anche Pensa a quelle che non ho scritto Cioè ti riferisci Fai la rima Quante che ne hai scattato Per questo disco? Ma guarda Non tantissime Perché volevo fare Una roba compatta Non era facile poi Fare dei pezzi Che fossero No In mood Penso con tutto il disco Sì esatto Che poi si amalgamassero bene Con tutte quante le tracce Quindi ce ne stavano un paio Che poi ho deciso di togliere Questo qua secondo me È giusto così Non Non avrei aggiunto Né tolto niente Poi sono arrivato alla conclusione Che così secondo me era Infatti ho avuto l'impressione Ascoltandolo Come dici te È compatto Un disco che fila molto bene È piuttosto corto Per essere un disco mio Di solito faccio dischi Più lunghi Però invece Questa soluzione qua Questa volta Secondo me ha dato il meglio Come mai Eclissi L'ha chiamato? Perché alla fine Questa pandemia Questo momento di nulla Dove non potevi fare niente Dovevi stare da solo Così è stato un po' No? Una roba tipo di oscurità Quindi diciamo Che l'Eclissi È un po' Quando è cominciata la pandemia No? Il buio È cominciato là Ed è quando ho scritto Poi tutto il disco Alla fine Ok Tu in alcune interviste Per esempio con la TRX Parli un po' Come scrivi Come la tua influenza No? Quello che chiederti Questo disco qua Da quando l'hai scritto A quando adesso l'hai fatto uscire Ti è servito anche Poi da terapia? Tu usi la musica come terapia? Beh alla fine È un po' È un po' Tipo Psicanalisi No? Di te stesso Quando fai un disco Secondo me Almeno per me Quindi Sì Diciamo che è sempre utile Avere dei riferimenti Da ascoltare Io comunque sento spesso Le mie cose Prima che escono Perché Sono fanatico E devo Devo essere sicuro Di tutto Hai scoperto Noi sfaccettature Di Jimmy Tides Te lo chiedo perché Perché io ti ascolto Dai tempi Hai fatto uscire Tantissimi dischi E L'abbiamo appena detto Appunto A ogni disco Magari Puoi colmare Dei vuoti O imparare Più di te stesso C'è qualcosa Che Qualcosa che è scattato In te ultimamente Tramete questo disco O una consapevolezza O qualsiasi cosa Ma guarda Ti dico Sicuramente Sono arrivato al punto Nella quale Non mi faccio più Tanti problemi Se non faccio un disco Dove rappo Su tutte le tracce Per esempio Prima c'avevo un po' Questa cosa Sul gruppone Dico cazzo E qua dovevo fare Forse dovevo Rappare di più Poi alla fine Voglio dire No In senso Ho fatto uscire Così tante cose Che ormai Che so Rappare Penso sia Assodato Posso Posso Dedicarmi a fare Delle cose Che considero Comunque Nel filone Del rap Ovviamente Però Che siano anche Un po' diverse Comunque che mi piacciono Quindi diciamo Quell'ottomontorità È venuta anche un po' Più una libertà artistica Sì assolutamente Bella questa cosa Senza dubbio Nel disco si sente Ci sono diversi mood Dei grandissimi Feat A Zaffer Io quando l'ho visto Sono impazzito Io sono un super fan Ne parlavamo prima Per me I suoi head lips Woof Sì vabbè Lui è il numero uno Lui è il numero uno Quella dell'hype Ci sono anche Tantissime altre collaborazioni Però mi sembra di capire Che sono collaborazioni O personaggi Che tu hai sempre stimato Con cui tu hai sempre Tenuto il rapporto E questa è forse La chiave Di come tu scegli I fit Sì io scelgo il fit Quando ho la canzone Giusta per il fit Nel senso Prima di fare la canzone Non ti posso Di chi ci sarà Sul disco Ovviamente Se poi faccio un pezzo Penso Guarda qui sta bene lui Gli lo propongo Chiunque esso sia Qualche volta Va in porto Qualche volta no Qualche volta poi Decidiamo di cambiarlo Però ecco Ci sono un sacco di featuring Che da solo Non ho mai fatto Il pezzo Marra sul disco mio Non c'era mai stato Noiz sul disco mio Non c'era mai stato Sfera non c'era mai stato Ferg ovviamente no Rispetto agli altri dischi Dove magari trovavi Più no Gente che c'era già A parte Madman Che penso è ovvio Che ce lo trovi nel disco Noi Tutti i producer Tra l'altro Bittone Bittone Quella di Madman Incredibile Sì sì Una bella pietra Una bella pietra Sì sì Anche la sua entrata Sì Fanno le reaction su youtube Dell'entrata di Madman Sì Non della canzone Fanno le reaction La reaction dell'entrata Giusto eh Giusto Infatti sto aspettando Di farla live Voglio vedere che cazzo fanno Sì sarebbe un bel casino Sarebbe un bel casino Quello che chiediti Ferg Quando tu gli hai mandato il pezzo C'è la storia Che dopo otto giorni Te l'ha rimandato Sì tipo due settimane Esatto Ti ha dato anche un feedback O comunque Ti senti te con Ferg Ma guarda Io non sono il tipo da Non lo so Di scrivere su Instagram Quelle cose là Sono un po' strane per me Anche perché Io non li leggo I messaggi di Instagram Figurate a Sapferg Perché dovrebbe Se non li leggo io Perché dovrebbe lui Tra l'altro mi pare Un tipo molto poco social Lui E' uno che posta Quando deve postare Se no non è che sta lì A fare le storie Quindi ho detto Non lo sai che c'è E l'importante È che gli piaccia la traccia Immagino gli sia piaciuta Perché poi sei arreppato Ha fatto tutto Presto L'ha rimandata indietro Vuol dire che Gli è piaciuta Ecco Sono contento Tu Vabbè con il tuo mixtape Così hai sempre avuto Questa vena Hai sempre guardato Agli Stati Uniti USA no? Sì Ti è sempre piaciuto questo Quello che volevo chiederti In Europa te ultimamente Con tutto questo movimento In Francia Piuttosto che in Inghilterra C'è qualcosa che ti ispira? C'è qualcosa che ti stimola? O rimane piuttosto Sull'America Sull'Italia? Ma guarda Non è che faccio Tanta distinzione Su qual è il paese Ormai di cose proprio rap È difficile che esce una roba Che me la sento A stecca Sento poco rap Perché Il rap che mi piace È particolarmente Non è facile da fare Secondo me Ormai Quindi Lo fanno in pochi Dici Quel rap che ti piace Sì Non è facile Ormai trovare una roba Che quando la sento Penso Ah che figo Magari esce un sacco Di roba bella Però mi sembra uguale A altre cose Quindi la sento una volta Due volte Non sto lì A indignare Non so come dire Preferisco sentire Un po' tutto Quello che esce L'ultima cosa che ho sentito Che mi piace un sacco È il disco di Flume Dove appunto Di rap non c'è niente Quindi Tra l'altro C'è sempre un bel concetto Anche di visuals E tutto Spaccalo Quello è troppo forte Sì sì Forte Fortissimo L'ho visto una volta live In un concerto Appunto con tutti questi visual Qua c'è un bel mood Fortissimo C'è veramente un bel mood Figo figo Infatti quello che voglio chiederti Se uno adesso entra su Spotify Di Jamie Tais Cosa si trova? Cosa ti stai ascoltando In questo momento? Eh Oddio Che mi sto ascoltando Ultimamente A parte appunto Questo disco di Flume Ho sentito Guarda te lo dico Faccio prima così Così? Curiosità? Ti dico l'ultima cosa Che ho aggiunto Nella mia playlist Vai 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 Ci sono queste tre tracce Di Flume Sì Dopodiché C'è Un pezzo Di un gruppo Prog anni 70 Che si chiama Fraction Il pezzo si chiama Eye of the Hurricane Che è una bella bomba È bellissimo È una roba Anni 70 Dopodiché Ho L'ultimo pezzo Di Asaprochi Ok Quello che ha fatto anche il video Due pezzi Di Kendrick Dell'ultimo disco Mi hai piaciuto L'ultimo disco di Kendrick Bello Bello pesante Ma bello Lui è troppo forte Non è che puoi fare niente Poi ho due pezzi Dell'ultimo disco Di Liberato E Satisfaction Di Sir Che le spacca tutto Il tipo canta da paura A me mi piace un sacco lui E poi Ho due tre pezzi Del disco di Jack Carlo Che pure non mi è dispiaciuto Per niente Molto figo il disco Bell'artista lui tra l'altro Molto interessante È bravo È bravo Cioè il classico rap Da white White rap Rap preciso Spacca il secondo Ho capito Sono quelle cose proprio Sì 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 E mentre in Italia Tu Quando ascolti la musica Prevalentemente italiana Te l'ascolti più Per uno scopo di capire Cosa fanno i tuoi colleghi O proprio per gusto Non so Per esempio Liberato Proprio perché ti piace Però tu sei uno Che guarda molto Il mercato Cosa succede? Per capire un po' Ma guarda Il mercato tanto Voglio dire Ormai cambia Ogni settimana E in più viene Comunque Diciamo Smussato Da tutte queste cose Che ci sono I reality Sanremo E il concerto Il primo omaggio E X Factor Quell'altro Alla fine Ogni settimana Esce una cosa Di un'altra cosa È difficile ormai Il mercato Il mercato È quello che Tu devi fare Il disco Che devi fare E basta Poi se va bene Hai fatto la cosa giusta Diciamo Perché se stai lì A studiare le mosse Secondo me Diventa complicato È una cosa Che a me piace sempre Quando sono artisti Del tuo calibro Parlarne Perché Mi sembra Che artisti come te O altri che lo fanno da anni Comunque O altri artisti Che abbiamo avuto qua Non devono più dimostrare niente Quindi hanno la loro linea Una certa libertà artistica A me mi sembra Poi magari Chiedo la tua opinione Che adesso In Italia Gli emergenti Debbano comunque Seguire Determinate strategie Magari questo influisce un po' Non uscire il disco Quando ci sarremo Fai la canzone Per TikTok Eccetera Questa cosa qua Secondo te Danneggia un po' La musica Proprio in sé Ovviamente Se devi fare una canzone Perché devi spaccare Su TikTok Sì Nel senso no Non puoi fare una canzone Per TikTok Cioè è strano Poi se la tua canzone Diventa la hit Di TikTok Bella per te Non so come dire Ovviamente Il pezzo Deve essere una conseguenza Però non un obiettivo La musica Deve essere musica Non è che puoi fare La musica Per il social O per la Capito È come se mi dicimo Faccio un pezzo Così magari Ci faccio la pubblicità Della macchina Non so che dire È strano Sì 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 Non è proprio Roba mia Scusate schierisco la voce Ma ieri ha suonato Ma in San Milano Io non ho dormito Quindi C'è acqua Quello che vuoi Ogni tanto Così È più Rauga del solito Oggi Comunque fare una canzone Per una pubblicità Della macchina Non è male No no Sicuramente no Se Jimmy Tyson Dovesse fare una pubblicità Per una macchina Di quale la farebbe Ma non c'ho idea Non c'ho manco la patente Io quindi È vero Come va in giro A piedi Col taxi No a piedi dove vado Mi strappano la vita Se vado a piedi Vado in taxi Uber Ok E quant'altro E amici E amici Strappi Ascolta Tu per questo disco Dove l'hai scritto principalmente? Sei andato in diverse zone O è un disco Che tu quando scrivi Prevalentemente Nel tuo studio di riferimento? No Abbiamo fatto un sacco di session In giro per l'Italia È stato scritto un po' in giro Tra Ovunque Tra la Puglia Il lago di Garda No Era il lago di Garda Era il lago di Garda Il Lazio Poi siamo stati in Toscana Ok Abbiamo fatto un po' di giri Invece il tuo processo com'è? Quando è che hai capito Che il disco era chiuso? Ti sei prefissato Ok lo voglio chiudere Adesso sparo Aprile E poi preparare la promo Preparare tutto O c'è stato un momento Che hai detto Ok con questo pezzo Penso proprio che il disco è chiuso Ora ti dico la verità Alla fine il disco Disco L'abbiamo chiuso veramente Un mese Prima che uscisse Ok Ultima traccia che si è L'ultima traccia che ho scritto Del disco Non mi ricordo Allora ti chiedo la traccia O le tracce a cui sei più affezionato Allora l'ultima Sicuramente qua con me Quello è un pezzo Che c'avevo da tanto tempo Da parte Non ero mai riuscito A infilarlo da nessuna parte Il pezzo c'ha un sacco di Un sacco di anni Però secondo me Rimane Rimane veramente una cosa unica Nel suo genere E quindi ci sono affezionato Particolarmente Anche per quello Magari che ha deciso Di metterlo in coach Cioè chiudere il disco Beh sì Sicuramente è un pezzo Da chiusura Per quanto mi riguarda E poi boh Mi piacciono tutti Insomma c'è Pochette Particolarmente Diciamo un po' Ce l'ho a cuore Perché è proprio Roma Proprio Roma Figa 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 Dalla chat cosa dicono? Dalla chat Io sono pieno di domande In verità Ma pieno pieno Le faccio Intanto Trovane uno Intanto volevo dirti Che una delle mie tracce preferite È Ogni volta Il ritorno al convenire Secondo me Ha spaccato di brutto Sì sì Ma Andrè Un'atmosfera incredibile Sì sì Tra l'altro Questi ospiti qua Spoiler Non so se si può dire Nel tuo tour Si troveranno? Non lo so Perché siamo in tour Tutti quest'estate Infatti quest'estate È un casino È veramente difficile Trovare uno Che alla fine Non suoni Quando suoni Che non suona Quando suoni tu Così Non lo so Quando ci saranno le date Poi mi renderò conto Lì per lì Qualcuno ci sarà Sicuramente Com'è per te Tornare in tour Con un disco Che sta facendo così bene? Eh beh Sono piuttosto contento E In trepida attesa Come si dice Ormai sono tre anni Che stiamo Fermi proprio Appunto Mi leggo A questa domanda Che hanno fatto in chat Come è stato Come è ritornare A fare in store Dopo E live Qua dicono Dopo due o tre anni Di covid Perché in store È molto più diretto Con i fan Ma guarda Ti dico È sicuramente Una cosa buona Perché ricominci ad avere Un po' di contatto Ricominci un attimo A fare il tuo lavoro Alla fine Capito Andare in giro A muoverti A testare A vedere Come dice la gente Se so cambiati Se so di meno Se so di più Comunque almeno C'è no Una base di normalità Quindi da paura Infatti Non mi ricordo Se non sbaglio Era Sfera Che diceva Che nell'ultimo periodo Non faceva neanche più La vita d'artista C'è un'altra vita E appunto Adesso mi ricollego Sempre a Sfera In chat Hanno chiesto Come è nato Il feat con Sfera Allora Il pezzo con Sfera Era un po' Che stavamo in canna Di fare una roba insieme Poi ci siamo beccati E abbiamo fatto un pezzo Che però poi Abbiamo deciso Di non usare più E ne abbiamo fatto un altro Che è questo Che finiva sul disco Ok Quindi in giro C'è un altro feat Jamie Tides con Sfera La canzone c'è Ma non so se uscirà mai Però Ci sarebbe Sì Ci sarebbe Sì Infatti aveva fatto Un sacco di hype Quando avevi pubblicato L'ho fatto In studio con Sfera Mi ricordo che era girata Un bel po' Eh sì Era quasi inaspettata Sì Non se l'aspettano Particolarmente Poi qualcuno ha detto Ah hai fatto il pezzo Con Sfera Questi così Prima ti stavano sul cazzo Non è vero Ho sempre detto Che Sfera spacca Non farò mai un pezzo Che uno E mi sta sul cazzo Potrebbe essere anche The Weeknd Se mi stai sul cazzo Non la faccio Una canzone con te Quello è sicuro Ma chiedono anche Quando aveva messo Il boss delle domande Abbiamo fatto tantissime domande E uno chiede È una domanda un po' banale Però secondo me Un artista come te Può rispondere In un modo molto Molto esaustivo Quanta fame ha ancora Alla tua età? Beh parecchia Parecchia E questo magari insegna anche No? Un artista come te Che ha tantissimi dischi all'attivo Che ha ancora questa fame Dimostra proprio Che questa Magari non è solo Un lavoro È proprio passione pura Forse questo è il segreto Di essere così longevi Ma guarda ti dico Io ieri appunto Ho suonato Mace Al Fabrica Milano Nella band di Mace Ci stanno anche Due membri Dei calibro 35 Che È gente che suona Da tanto tanto tempo Un po' ovunque E quando finisce il concerto Guarda Enrico E Fabio Per esempio Sono tra quelli Che sono i più Sono quelli Tra i più contenti I più felici Più emozionati E cioè È gente che suona Da vent'anni più di me E suonerà Per vent'anni di più Probabilmente Perché il genere loro Glielo permette Glielo consente Quindi sì Nel senso Non Quella roba Deve essere l'input principale No? Se non ti va O Se non è una cosa Che ti fa Che ti rende felice Che tu non vedi l'ora di farlo Comunque non ci stai in paranoia Non ci stai appresso Non Secondo me Non è abbastanza Tu sei una persona Che vive il momento Nel senso Adesso ti stai gustando Questo disco Questo successo Il tour che arriverà O sei una persona Che comunque cerca sempre Di innovarsi E magari pensa già Al prossimo step Al prossimo disco Al prossimo Mixtape Magari Sei molto attivo Ti dico la verità Mo Sono bello esausto Perché ho fatto Ho fatto questo disco Ci ho provato Ho provato Ho cercato di Renderlo Pieno di musica Non è facile Non è facile poi Quindi Non ho veramente idea Di che cosa farò Sul prossimo disco Però Molto difficilmente Somiglierà a questo Il prossimo Come questo Non sembra quell'altro Via dicendo Cos'è che ti stimola Cosimo Quando era venuto Gue diceva Sai Io sono facilitato Comunque a scrivere tanto Perché io vivo tanto Anche no Certo Le esperienze Certo Quindi tu prendi Molto spunto Anche dalla vita Della tua vita comune Eccetera Ma devi Devi Questo vuol succo Ma nel senso Se tu stai due anni Chiuso dentro casa Non fare un cazzo Mai Pandemia o non pandemia Vai farai un disco monotono Sì Almeno a livello di argomenti Almeno per me O comunque c'è la grande possibilità Che tu faccia un disco monotono Devi vivere Devi divertire situazioni No Belle o brutte che siano Devi viaggiare Sicuramente devi andare in qualche posto Dove non sei stato Devi conoscere Cioè alla base di tutto Secondo me Di un artista Qualsiasi Sia l'arte Ci deve essere la curiosità Pure se fai il pittore Lo scultore Insomma Da qualche parte Devi andare A attingere Devi prendere ispirazione Devi capire No Se no che fai Mica puoi fare tutto autoreferenziato Diventa una palla Secondo me Sì 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 Assolutamente Poi sicuramente Per chi Scrive tanto come te Avere esperienze forti Comunque fondamentali Poi comunque La tua fanbase Scrive molto spesso Che la tua musica È molto terapeutica Quindi si rivedono molto Nei tuoi testi E questa è una cosa Io trovo Che puoi scrivere Solo se determinate cose Le vivi Alcune sensazioni Non puoi scriverle fake Beh sì Non so come se faccia Di sicura verità Non potrei mai Nel senso Non mi metterei là A scrivere Un pezzo Può essere una cosa Che ci stia cambiando È bene È bene che ci sia varietà Così uno sceglie Che si vuole sentire Fa le sue No? Meglio Tanti anni fa Dovevi aspettare Due anni Doveva uscire 60 Hz DJ Shock Stavi lì Che guardavi Un adesivo Capito Per due anni e mezzo Poi finalmente usciva Poi per carità Nel senso Però È più bello così Che esce un disco Due dischi al mese Poi te scegli Quello che ti piace Di più E te lo senti Quindi comunque A te ti sembra Che ci sia qualcosa Che si sta muovendo Una rivoluzione Sì sì Sicuramente È bello È bello Con un sacco di gente Che vuole fare la musica Comunque È meglio che È meglio che Che ci sono Che no Ecco Per me Sempre per eccesso Che più per eccesso Che per difetto Sicuramente Almeno Nel panorama italiano Tu sei un artista Di quelli A cui piacerebbe Sviluppare Una relazione Con un emergente Quindi farlo crecere Farli magari da Non da padre Ma da tutore O sei più uno Che ti piace fare La tua roba E andare tranquillo Cioè ce l'hai Questa vena qua Perché qua scrivono tanto Tu comunque hai fatto Tante cose Anche con emergenti Sì spesso io Cerco di dare un po' No voce Penso che spaccano Perché no Anzi Ok quindi è proprio Una decisione Se spacchi Ti do spazio Magari è una tua vena Di dire Voglio dare dietro qualcosa Della mia esperienza Capisci Per fortuna questa cosa Mi è stata poi confermata Da un sacco di gente Dice no è vero Perché se no A certe volte penso Sei concentrico Sei matto Adesso tu pensi Che puoi fare Invece poi alla fine Ce l'ho secondo me Quella roba Di un po' Dirigere la cosa Che poi tra l'altro È spoilerata Che comunque Ci stai lavorando qualcosa In un'altra Nella tecno Dicevi Sì sì Mi piace Faccio un po' di tecno Così per divertimento Per hobby È una cosa appunto Che preciso sempre Che è un hobby Non è una cosa A cui punto Non voglio diventare Un DJ È un po' come andare al campetto Bravo È come andare a giocare A calcetto ogni tanto Bravissimo Un sfogo Sì È una cosa Che faccio per puro divertimento Ok Tu quando esci Se esci Vai volentieri A ascoltarti la tecno O sei uno di quelli Che va nei locali hip hop Per ascoltarti il hip hop Magari americano O i bangers No no Non vado in nessun locale Mai in Italia Non esiste Vado solo Quando vado fuori Mi piace sì Magari mi faccio un giro Così a Berlino O se vado in America Mi piace andare a vedere Che mettono nei club Sempre per il fatto Che comunque Non ti puoi godere Una serata Con 50 persone Che ti fanno la foto Col flash Ti chiedono Di fare il video Per il suo cugino Ti puoi godere La serata Così non te la godi Quindi preferisco Sta a casa Ok ok E quando sta a casa Quindi ti metti Magari un bel disco Ti ascolti la musica Sì tanto la musica Guardo tantissimi film Tantissimi documentari Quello O la faccio Documentario Infatti è una domanda Che volevo farti Con tutta questa musica Che è uscita Con tutto questo tempo Che hai passato a rappare Uscirà mai un documentario Comunque qualcosa Che racconta magari Tutto il tuo percorso Perché tu veramente Hai passato tante ore Hai visto di tutti i colori Sì Non mi hai mai pensato Magari di fare O di produrre Qualcosa Sulla tua carriera Ma no Perché La mia carriera È tipo Non so come dire Te voglio dire Che è appena cominciata Però È il corso Spinning Insomma Sto andando Ecco Non Come mi hanno chiesto Variate volte Vuoi scrivere il libro Sto fanno scrivere il libro Ai rapper A tutti Sì 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 Il libro devo scrivere io La biografia Cioè potrei comunque scrivere Il signore degli anelli Con quello che ho visto Negli ultimi 15 anni Ma per quello che ti dico Però nel senso Ne manca ancora di tempo Prima che scrivo il libro Capito Ok È un po' presuntuoso Secondo me Scrivere il libro Quando non Non hai fatto Almeno 40 anni Poi ognuno fa le sue scelte Io non biasimo nessuno E al di là della musica In questa Spera artistica Ti vedi in qualche altro Channel Nel senso magari Non so Attore Musicista Lo sei già Però magari attore Magari qualcos'altro O proprio musica No no Non so fare niente Io Ti assicuro Non so fare niente Sono diventato bravo A fare una cosa Ma il resto Guarda Sono veramente Completamente inutile Cucino So cucinare Poi per il resto Sono veramente Una pippa in tutto Giotto forte Piatto forte Eh ce ne sono diversi Ti posso dire Faccio una grande matriciana Faccio una grande Zuppa di cipolle Zuppa di cipolle Sì Passavo tanto tempo Con una francese Io quindi poi sono stato Sono stato influenzato Anche sotto il punto Di vista culinario Infatti volevo chiederti Zuppa di cipolle Comunque Va bene Allora la prossima volta Che ci becchiamo Masterchef Insomma Inverno magari Però potresti fare Masterchef Ci dovesse essere Cazzo ne so No no Diventere No ma non sono così Bravo Non sono così bravo Cioè non Se mi dici quella cosa Tipo Non lo so Prendi quell'ingredo Non lo so Non so fare niente Ti assicuro Secondo me sarebbe figo Un Masterchef Con tutti i rapp Se lo fai fare Altri rapper Ci posso stare Se non hanno fatto Come si dice Scuola di cucina Non vale Sì 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 Avantaggiato Spaccherebbe però Masterchef Con tutti i rapp Spaccherebbe Se ci rubano l'idea Ragazzi Comunque ci sono le prove Siamo live Ci sono le prove Siamo live Ok io direi Che ci siamo fatto Una bella cacchierata Sul disco Assolutamente Prima di lasciarci In pausetta Vorrei dire una cosa E chi ci segue Che è collegato 900 persone passa Lo sanno benissimo Che negli scorsi giorni Te hai detto Che hai messo Sia la base Sia hai messo In guarda Tutti che faremo Freestyle Madonna Sì sì Ho scritto una cosa Mentre venivo in treno E un po' Anche mentre venivo qua Io raga L'ho sentita Tutta liscia andata Tutta liscia andata Raga Io l'ho sentita Quindi l'unica cosa Che voglio dirvi Rilassate Adesso bevete qualcosa Perché torniamo tra pochissimo E state pronti E state pronti Perché torniamo tra pochissimo E si rappa Cioè quando tu c'hai una fanbase Che ormai è accertata Boh alla fine Se te la perdi È perché hai fatto qualcosa Che non dovevi fare Capito E non è che non devi fare cose diverse Non devi azzardare Perché io veramente Ho azzardato parecchio negli anni E sto disco qua Forse è il più grande azzardo Che ho fatto A livello discografico Per quanto mi riguarda Perché dici questo? È perché è un disco Dove comunque Tu sei abituato a sentire Io che spacco tutto Ti rompo il culo Blah 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 Quadruple rime Poi ci stanno comunque sul disco Però questo è un disco Dove no È molto più intimo Come 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 atmosfera È una cosa super Tutti hanno detto chill Tipo disco chill Per rilassarti E io all'inizio pensavo Che merda Che disco chill È una bomba Però poi invece Ho riflettuto Che anche io Effettivamente Ho dei dischi Che non è che Me li sento la mattina Faccio il cannone Mi sento il capito Non sono quelle robe Che energy Che te le senti in macchina Mentre vai a fare la serata Non ti senti ciao baby Perché se torni a casa E piangi Che ti manca la tua extra cazza Non so come dire Ci so cose e cose Poi ovviamente Poi ci stanno le robe più zarre C'è quella con Madman Che secondo me È una pietra È una pietra E quest'altra cosa A Ferg Insomma sono quelli Un po' più festicciola Tu hai detto prima Che facevano le reaction All'entrata di Madman Secondo me Quando dropperemo questo Faranno le reaction A questo freestyle qua Che mitragliata Mitragliata veramente Cosa hai pensato Quando l'hai sentita Eh ma ti dico Io quando Cioè Lui è uno di quelli Secondo me Che non sbaglia mai Quando fa usci Cioè non è che lui Certe volte Fa la strofa pacco Capito Io non ho mai sentito La strofa pacco sua Fa sempre Il suo Lo fa giusto Cioè vedete Anche Lil Wayne Che per me è Dio Cioè Lil Wayne È proprio Gesù Comunque Lil Wayne Qualche strofa pacco L'ha cacciata Nei suoi momenti Di delirio Nei suoi dischi O in quei Feet mainstream Che hai cercato di far andare Tu dici Ma guarda In realtà I feet mainstream Quelli mega pop Li fa sempre bene Perché è un king Quando invece Magari nel disco Il mixtape Quello sta Che ne so Letteralmente Si sta venendo Un kid nei failure Perché si è bevuto 100 litri di syrup Poi il giorno dopo Schive una strofa di merda Ci può stare Invece per esempio Lui Non so come dire pure Tipo offset Ecco offset è un altro Che non ho mai sentito Fa una barra fuori tempo Una cosa fuori posto Spacca sempre Poi che ti piaccia O non ti piaccia Comunque non puoi dire Fa schifo Mi dici guarda A sapere che non è la roba mia Però poi Cioè La strofa è una cartella Una cartella Fa le rime Fa le rime con la Fa le rime Con la voce reversata Al contrario Sono figo Lo faccio al contrario Fa la rima Con la King Tra l'altro Io quando gli ho mandato il pezzo C'aveva un altro beat Completamente No Era completamente diverso Era una roba mega distorta E mi era venuto in mente Di mandargliela a lui Perché Un po' mi ricordava Un pezzo Quasi sconosciuto Che è uscito Su Ocona Saprochi Tanti anni fa Che si chiamava Mattress Che era una roba Zarra Tipo Distorta Ma c'è anche il video Magari di Mattress Sì C'è anche il video E' fighissimo Quel pezzo E lui Quando glielo ho mandato Poi quando mi ha Mi ha rimandato il pezzo Mi ha detto Cioè mi ha detto Ha scritto nella strofa We was little Jumping on the mattress Gun up Like uncle Got a gun up in the mattress Quello ha capito Cioè ha capito Che secondo me Quella canzone Che gli ho mandato Mi ricordava quella E lui si è tipo Autocitato Senza che nessuno Gli dicesse questa cosa Capito Quindi già lì Quello mi ha dato Un altro input Per dire Vedi che il tipo Porca puttana Spacca proprio Non è che Sta lì a rubà Spacca Poi lui è molto artistico Comunque Anche nei suoi video Nel modo di posta Spacca Si veste da paura E E' proprio E' un figo Capito E' un concerto da paura E' un po' tutti E' figo L'unica volta Che ho perso il telefono E' stato un suo live Saltavo Vedi Cioè a me tutta Un sacco di gente Mi fa Ah però fate i featuring Quegli americani Questi neanche vi seguono Su Instagram E io dico No Ma Se mi seguisse Su Instagram E facesse Una strofa di merda Sarebbe davvero meglio Perché a me Mi pare che è questo Che succede Con gli americani Spesso Tutti i props Props Però la strofa L'hanno scritta In cinque minuti Mentre andavano a mangiare Nel van Capito E invece Un sacco di gente Quando ha sentito Sta strofa E comunque Questo pezzo qua Non è tra i super Più streammati del disco Ce ne stanno altri Quattro cinque Prima di questo Non ho letto Nessuno dire Ah che merda È il featuring Da Sapferg Capito Questo si è rubato I soldi Tutti Al contrario Mi hanno detto Questo è l'unico Fit americano Che ho sentito Che ha spaccato il culo Che secondo loro Dici si è sentito Il pezzo di Gemma Ha detto Vedi questo Sa reppare Faccio una roba così Io poche volte Ho sentito Il featuring americano In altri europei Non italiani poi Cioè uno veramente Bello bello Mi ricordo che era Quello di Future Su Abra Kadabra Di Sfera Secondo me Quella nastrofona Di Future Fica Altri casi che mi ricordo Devo dire Non me ne ricordo Nessun altro Di queste epiche Capito America Italia O America Francia Difficilmente America Inghilterra È difficile Capito Che Giusto quello di Drake Con Giggs Qualche anno fa Che era una pin Però quello comunque Poi era Nella roba di Drake Non è una roba di Giggs Però c'è Cartella Bellissima C'è Drake e Ediwan C'è Drake e Ediwan C'è Drake e Dave Ce ne sono Però lì appunto Di quell'effetto lì Effettivamente Che Drake Sarebbe pure portato Dietro al live Io l'ho visto live Cazzo una cartella Fighissimo quel pezzo Tra l'altro Hai detto una cosa Non è tra i pezzi Più streamati Stavo guardando Gli stream dei prezzi E prima di chiudere Volevo farti una domanda Un feat che io Ho apprezzato tantissimo Anche a livello di nome Neffa Top Com'è Com'è che Mi racconto questa cosa Non l'ho mai raccontata Da nessuna parte Allora praticamente Allacciatevi C'avevo questo pezzo Da due anni quasi No due anni no Un annetto e mezzo Che secondo me Era bello forte Era questo Eclissi Che tra l'altro Poi ha dato il nome al disco Però non c'avevo il ritornello C'avevo provato A fare un ritornello io Ma non mi è venuto niente Che mi piacesse E allora Ho pensato Ma qui A chi lo faccio Cantare questo ritornello Perché lo deve fare Qualcun altro Io non ci riesco Ne sono tanto Di quel tipo Che tipo Scriviamo un ritornello Scrivimi tu un ritornello Lo canto io Pure quella cosa Non mi piace Non mi piace Non mi piace È successo una volta sola In tutta la mia carriera E non le parole Tipo la Lilia Vocale Di uno dei ragazzi Che lavora Di Ombra Che produce Lavora con noi Da 15 anni Quindi praticamente Se lo fa lui O lo faccio io È uguale Capito Non beccherò mai Melodista Si dice Una melodista Come si dice Quelli che ti trovano Le melodie Top liner Non esiste Che io vado da qualcuno Che fa quello Non sei un falegname Che io dico Stai tu fa la scrivania Vengo da te Il ritornello del disco mio Non lo puoi scrivere tu Capito Ma mai nella vita Se lo scrivi tu È perché io Decido che lo scrivi tu Quindi ho pensato Neffa Fighissimo Ho detto Io non ero in contatto Con lui Ogni tanto C'eravamo scambiati Un messaggio su Instagram E gli ho detto A lui è scritto Però lui ha risposto Si vabbè Ma io Neffa Per me è un po' un mito Capito Io sono Cioè avevo 13 anni Quando mi sentivo I dischi di Neffa Quindi ecco Gli ho mandato il pezzo E lui mi ha detto Mi piace molto Non gli ho dato Nessun'altra info A riguardo E mi ha mandato Un ritornello Dopo Due tre giorni Io solo la mia faccia Da culo La mia Io ho detto Ma non mi piace Perché l'aveva fatto Troppo composto Cioè Non composto Scusami Perché composto Poi sembra che era Era smooth Era calmo L'aveva fatto troppo Era pieno Cioè aveva due tre armonizzazioni Era bello Però era pieno E io invece Da lui mi aspettavo Vedi Sbaglio Gli avrei dovuto dire prima Io volevo che facesse Le cose che preferisco sue Quando canta Sono quelle Voce sua Da sola Riverbero A stecca Basta Non mi serve niente La voce sua E basta Gli ho detto Gli ho detto Guarda è bello Però secondo me È poco intimo Rispetto al pezzo Mi faccio Secondo me Devi fare una cosa Super intima Tua Una voce sola Gli ho detto Non fa C'è l'armonizzazione Però è leggera Allora lui mi ha detto Ho capito Quello che vuoi Mi ci metto E mi ha mandato Poi quest'altro ritornello Io tipo Dopo una settimanella O due E io ero appena Riatterrato da Berlino Stavo in aeroporto E sai quelle cose da film Proprio Sono salito in taxi Col tramonto Mentre tornavo a casa E lui mi ha mandato Il ritornello E Io ero talmente In paranoia Che non mi piacesse Anche il secondo Infatti volevo dire Cazzo Se il secondo non ti piace Che cazzo fai Che ho mandato Pensa che paranoia Ragazzi Mi sono sentito Mi ha mandato il pezzo Io ho sentito Tutta la nostra famiglia Prima Tipo ho detto Sento tutta la canzone Insieme Così Non mando subito avanti E sento il ritornello Quindi sono stato lì Te lo giuro A pregare Ho detto Cazzo Speriamo che questo qua Mi piace Perché ho detto Cioè non ce l'ho Proprio la faccia Di dire a uno come Neffa Che è il king dei kings Ah guarda Non mi vanno bene i ritornello E ti giuro Ti giuro Guarda Appena è partito il ritornello Dopo tre parole Io già sapevo Che avevamo vinto E ho già la pelle toga Sticca Infatti poi il ritornello Secondo me è speciale E anche lui Per fortuna Anche lui poi mi ha detto Bravo Hai fatto bene A farmelo rifare Questo è troppo più bello Perché tra l'altro Lui è un artista Veramente Super sincero Super onesto Cioè Tante volte Cioè ci si fanno dei problemi Ma questo crea rispetto anche No? Ma è bellissimo Ti ripeto Io non mi sono fatto il problema Esclusivamente perché Questo era il singolo del mio disco Cioè se fosse stato Il disco suo Lui mi ha detto Guarda c'ho sto pezzo Facci una strofa Non è che gli avrei mai detto Oh sai secondo me Il ritornello lo puoi fare mai Il disco tuo lo saprai tu Come lo vuoi no? Però ecco io proprio Ho immaginato Che la sua voce Pure su quest'ultimo disco Che ha fatto uscire Come si chiama il disco? Quello è napoletano Mi scordo sempre Ho già perso suono Come si chiama quello che c'è? No Quello era il pezzo con Silvano L'ultimo disco di Neffa Come si chiama? Scappa Eh lo so Lo so perché Ha fatto usci duecentori Featuring pure Ha fatto il pezzo De piano Con la voce da solo Lì riverbero Secondo me Lui lì dà il meglio Cioè dà il meglio Quando lui canta Almeno per i miei gusti Ovviamente Mi piace quando si mette In quell'atmosfera là Figo 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 Costava già un milione e mezzo Perché giustamente Era sentita la gente Però sta Mi piace che da quando è uscito il disco Si vede che ha un po' ripreso Anche hype Cioè la traccia in sé Anche se era già uscita Tanta gente magari non aveva sentito il singolo Poi ha sentito il disco E la traccia con Neffa gli piace Sono contento I numeri che ha fatto anche quando il disco ha droppato Sono comunque Sì sì Piuttosto Stiamo andando piuttosto Sta come si dice Serrati insomma Ci abbiamo tutte Quasi tutto il disco in top 100 Sono contento Gem Ci hai regalato una perla incredibile Minchia Noi ti ringraziamo Grazie a voi ragazzi Io ti ringrazio da fan Minchia Dagli anni Per noi è una cosa speciale Averti qua Grazie mille per la fiducia Ti facciamo i migliori auguri per il disco Grazie Eclissi E fuori adesso Andate a streamarlo A comprarlo Andate al tour C'avevo un regalo Mi dicono qua dalla regia Infatti non capivo cosa mi dicevo Assolutamente Parlavamo prima di Zoccolo Duro Sì Ok Un po' del rapporto della fanbase E io mi sono accorto Che c'è tanti fan Che sono proprio affezionati E qua c'ho Minchia il capolavoro Tra l'altro Minchia Questo si La ragazza che c'è lì Ti ha fatto un disegno Wow Ma non è un disegno Tipo quelli che ti fanno Cioè è un disegno della Madonna Wow Bellissimo E lì ci sono tutte Le migliori frasi Oh Le frasi Che piacciono di più a lei Eh certo Giustamente Giustamente Dai grazie L'ho presentato bene Grazie mille Questo è un piccolo regale Che vogliono farti così Per farlo vedere Baglio Va bene È una perla È una foto È una foto Praticamente sì Questa è una di quelle cose Che fa commuovere mia mamma Lei vive per questo La cosa che preferisce E io che sono diventato un cantante È che Che ogni tanto torno così Con questi Puri ragazzi Ti portano all'instorme Dove le tieni tutte le cose? A casa di tua mamma Magari c'ha tipo Lei c'ha tipo un santuario Io ce n'ho Ce n'ho qualcosa Poi a casa mia Purtroppo adesso È così tanto pieno di roba Mi devo trasferire Non c'entra più Manco uno spillo Però C'ho un sacco di disegni Che poi Si è fatta incorniciare Perché Certi sono bellissimi Poi ce n'ho talmente tanti Dopo un po' Che devi per forza Raggrupparli da qualche parte Perché ormai Dopo tanti anni Per fortuna Ancora tantissimi Ti portano qualcosa Capito Era bello questa cosa Sì sì No Stupendo È stupendo Che perdano del tempo Per no Per fare una cosa per te È figo Non è scontato Non è scontato per niente Compri una casa solo per i ritratti Non piangere Ragazzi Eclissi di Jimmy Tights È fuori adesso Andate a stremarlo Andate a ascoltarlo Il tour parte a breve 18 giugno a Roma Ragazzi Supportate la buona musica italiana Assolutamente Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito Sono Nate Questo è E questa sera E questa sera eravamo qua Con Jimmy Tights Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Chat